Ciao a tutte e benvenute in un mio nuovo video. Oggi video sul mio regalo per il mio anniversario. Allora, prima di iniziare vi ricordo come sempre se vi fa piacere di supportarmi iscrivendovi al mio canale, lasciatemi se vi fa piacere qualche like, attivate anche la campanella per ricevere le notifiche e essere avvertito ogni volta che esce un mio nuovo video. Vi ricordo che mi potete seguire anche su Instagram e su TikTok, il nome del mio profilo è sempre Queen of Fashion Cremie. Ora iniziamo subito. Allora, il gioiello, ormai vi ho spoilerato che è un gioiello ma l'avrete letto senz'altro dal titolo, che vi voglio mostrare, è un gioiello di questo brand, Dodo, Dodo Mariani. Presumo, non ne sono certa, che sia la seconda linea o comunque una linea più economica di Dodo. Allora, mi è stata data la bustina sigillata e poi con la sua scatolina all'interno, poi vi metterò la foto, la scatola si può avere o rossa o verde e all'interno c'era il suo pannetto dove poi era appunto appoggiato il braccialetto. Allora, il braccialetto l'ho già indossato da ieri, questo è il braccialetto, è in argento. Presumo che le parti rosse, le pepite rosse siano in resina, non ne sono sicurissima. Il braccialetto è questo, praticamente è, mi sollevo così, ve lo mostro. Viene composto in maniera non asimmetrica, lato per lato, quindi ha queste due grandi al centro e altri due gruppi da due laterali, per poi terminare con una e una. In totale le rosse sono 8 e i granelli sono 30, quindi per un totale di 38. C'è poi la solita chiusura a T, che è presente anche nei bracciali dodo, però questa è applicata in maniera differente di taglio. Ha qui poi il nome del brand, non so se si riesce a vedere, e ha sempre la piastrina con il nome del brand. A me è piaciuto tantissimo, si potevano aggiungere degli elementi in oro rosa, ma sinceramente così mi piace tantissimo. Questo lo terrò su fisso, per il momento lo sto tenendo nel braccio destro, ma passerà in questo lato qui. È un bellissimo rosso, perché è un rosso che sembra proprio un rosso ciliegia. Presumo che il costo si aggiri intorno ai 115 euro. Poi a mio marito è stato fatto lo sconto, però presumo che il costo sia questo. Li fanno in diverse colorazioni, in giallo, forse anche in verde e in blu, non ricordo. In giallo di sicuro. E con queste, passiamo il termine di pepite, anche leggermente più piccole. Io sono contentissima di questo nuovo gioiello. Il gioiello è chiaro che è un qualcosa che per una ricorrenza del genere ti resta. Sono 28 anni di matrimonio e 32 anni che stiamo insieme, perché è dal 90. Quindi, a prescindere dal regalo, trovo che sia stata una ricorrenza meravigliosa. I miei figli ci hanno fatto una sorpresa. Ci hanno regalato un pranzo intimo, quindi solo noi due. Poi, la nostra insaputa, ci è arrivata a fine pranzo la torta. Vi metterò delle immagini, che ho messo già anche su Instagram, della torta. E poi, delle immagini di quello che abbiamo mangiato. Ci hanno regalato questo pranzo in un ristorante qua nella nostra città, tre in uno, che appunto faceva cucina giapponese, cinese e italiana. A me la cucina giapponese non piace, quindi per quello, e anche a mio marito, non fa impazzire. E quindi è per quello che hanno preferito scegliere questo ristorante, per darci l'opportunità di mangiare sia cucina cinese, italiana e anche qualcosa di giapponese per mio marito, perché a me il giapponese non piace molto. È stata una giornata stupenda. La figlia poi ci ha preparato una festa a tema, ovviamente solo per noi cinque. Quindi i nostri figli ci hanno accompagnato in macchina, perché non sapevamo il posto, ci hanno fatto scendere. E poi ci sono venuti a riprendere a fine pranzo. Quindi è stata veramente una giornata inaspettata, stupenda. Poi abbiamo portato la torta con noi e con i nostri figli abbiamo mangiato nel pomeriggio la torta e abbiamo aperto una bottiglia. Quindi insomma è stata semplice, ma senz'altro una giornata bellissima, soprattutto per queste sorprese fatte dai nostri figli. Quindi appunto stavo dicendo mia figlia ci ha organizzato un video molto molto bello, che ovviamente è quello terremo per noi. Prima di andare al ristorante ci ha consegnato una lettera. Insomma è stato un video molto particolare con le dediche dei nostri figli. Basta, il video brevissimo termina qua. Io vi lascio delle immagini adesso dove cerco di farvi vedere il braccialetto un po' meglio nel dettaglio. Poi vi lascio delle immagini della giornata in ristorante dove non ci vedremo noi, ma si vedranno solamente le pietanze che abbiamo scelto. E poi ci rivediamo. Grazie a tutti. 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 E rieccomi qua. Ora vi lascio al mio outfit. E rieccomi qua. Avete potuto vedere? Vi ho mostrato una semplice foto o mini video dove praticamente sono vestita sportivissima. oggi non devo andare al lavoro. Ho quindi i leggings, quello termico grigio di Tezenis, questa maglia barra vestitino di Zara e sopra il giubbottino over di H&M. che adesso risulta, per quanto la mattina ci sia molto freddo e anche la sera e quindi vestita così va più che bene, però durante la giornata c'è caldo un paio di ore e questo risulta un po' esagerato. quindi adesso devo valutare un attimino di togliere un po' dall'armadio capi di una pesantezza leggermente inferiore e vestirmi a strati. Basta, il video termina qua, spero come sempre di avervi tenuto compagnia, vi mostro in velocità gli accessori che porto oggi e non mi soffermo tantissimo nel braccio sinistro, ci sono tutti i miei soliti bracciali, a parte quelli di Aliexpress, ho fatto spazio per questo che quando metterò altri bracciali qui passerà fisso nel lato sinistro. L'Apple Watch, quello mio piccolo da 38, il Cordino 1 dei 50, Rebecca in Argento, Simi Louis Vuitton, Simi il Cartier di Maeda Gioielli, Broswee con l'uchetto e la chiave, Pandora dove abbiamo appeso, dico abbiamo perché me l'ha regalato mio marito, il luchetto e la chiave, quello di Soufil con la foto mia e di mio marito personalizzata, di Stroili con i cubi e tutte le nostre iniziali e mi sembra di averli mostrati tutti, sì. Per quanto riguarda gli anelli, ho voluto richiamare il rosso con questo anello di Pandora che mi aveva sempre regalato mio marito tantissimi anni fa, mi sembra per un onomastico, gli orecchini, i miei soliti cerchi con la luna d'oro giallo e poi questi in oro bianco di Ambrosia. Non porto nient'altro, no, non porto nient'altro, ho sempre le mie due collane, quella con il nome in oro giallo e la piastina in argento appesa in una collana d'oro sempre di Pandora. Il video termina qua, vi mostro in velocità il rossetto che ho oggi, il rossetto è questo di Fenty Beauty, la colorazione ve la metto qua perché non riesco a leggerla. Comunque è questo qui. Basta, il video termina qua, spero di avervi tenuto compagnia, di avervi dato uno spunto per un eventuale regalo o autoregalo e noi ci vediamo prestissimo con un mio nuovo video. Ciao a tutte e buona giornata!